Il Movimento Civico in Umbria, verso il 2020, ha già realizzato 13 incontri partecipativi, peraltro molto frequentati, e inoltrato 500 proposte per migliorare la nostra regione. Noi vogliamo cambiare, ma con la capacità di fare concretamente secondo le risorse finanziarie disponibili. La priorità sarà la riduzione di sprechi, inefficienze, meno burocrazia, per avere più risorse da destinare allo sviluppo economico, alla creazione di nuovi posti di lavoro, a migliorare i servizi nella sanità e nei sistemi di trasporto, e sostenere di più le tante famiglie in difficoltà del nostro territorio.